Armi, droga e munizioni in tre bidoni sotterrati in un canale di scolo e ben nascosti tra i rovi. Nelle campagne di Cerignola, operazione dei carabinieri del comando provinciale di Foggia, in collaborazione dello squadrone Eli Portato Cacciatori di Puglia e del nucleo Cinofili di Modugno, oltre alla locale stazione. Un'attività durata diverse ore, con controlli e rastrellamenti nell'agro cerignolese, in particolare in una località dove è stata recentemente abbandonata e data alle fiamme un'autovettura, probabilmente utilizzata per commettere una rapina ai danni di un supermercato. L'attività ha permesso di rinvenire e sequestrare due pistole con matricola a brasa, oltre 100 cartucce di vario calibro, 200 grammi di cocaina e 500 grammi di hashish. In un altro bidoncino i militari hanno trovato invece decine di chiodi a quattro punti artigianali di quelli che vengono spesso utilizzati dai malviventi per agevolarsi la fuga dopo le rapine. Non molto distante, in un canale irriguo, sono stati recuperati anche un sacco contenenti alcuni indumenti, tra cui tre passamontagne, alcuni cassetti di quelli usati nei supermercati per riporre il denaro nelle casse. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Per i successivi accertamenti volti a risalire all'identità degli illegittimi possessori e utilizzatori per le armi, in particolare al fine di verificare se siano state utilizzate per la Commissione di Reati.